Ciao a tutti benvenuti su questo canale Oggi ci apriremo questa scatola della Nintendo Switch Ci sono tutte le modalità di gioco Di modalità tablet, che si può giocare sul tavolo Modalità tv, che attacchi lo schermo alla base Che sarebbe questa E poi se ci sarà quello, allora la tv si accenderà E c'è anche modalità portatile E anche quelli per giocare a Nintendo Switch Sport E adesso si apre Ah, bellissima Oh mamma E' bellissima No, intanto avevo messo questa E' il copo Quanto è bello Ecco la base Questa è la base Dove metteremo E anche questi Così E la Nintendo Ed ecco il Joy-Con Questo è il primo Joy-Con E' bellissimo Ma è molto bravo Che è piccolo Ma non fa niente Lo inseriamo qua per bellezza E' un altro Joy-Con E' un altro Joy-Con E' un altro Joy-Con Italiano Word Ecco la base Mi preferito di tutti Ecco come è grande Ora c'era questo piccolo Ma quello normale c'era un po' più grande Si accende? Non ancora. Ecco. Accesa. E adesso si devono mettere dei cavi. Ok, accenza. Ecco. Un A. 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 Quanto costava vostra nostra nuova giocattolo? cosa ti chiede? 30 oppure 30 non i codi e va così tanto che hanno i codi il prezzo ora ci scegliamo la nostra rete e qual è? e ora ci scegliamo e ora ci scegliamo papà guarda guarda ho fatto bene a staccarlo ma dobbiamo mai discioccare il nostro dispositivo e ora qual è? la nostra rete e cosa succede se lo fai? ti devo riparare da capo perchè la nintendo già sa tutto e guarda guarda posso anche fare così se voglio qual è? facendo anche il senso quindi aspetta oh la nintendo e come sta? e sta papà facendo delle cose inutili abbiamo fatto prima le cose un pochino normali facili ok? ci sono i giochi voglio un gioco uso radio l'Italia 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 usare la controlla la protezione l'Italia l'Italia usano stic sinistro per seleccionare poi premia sul controller destra 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 qui c'è sinistra a a a a a a puoi usare la console con i joycon collegati oppure scollegati ti scelgo il tuo stile di gioco preferito e continuo verrà aggiunto un utente su questa console i dati importanti che sono stati i dati di servitaggio sono legati in di ugualmente agli contenuti presenti sulla console scegli un modo scegli in che modo vuoi aggiungere un utente ecco vai 12 luigi inserisci il nickname lev e aggiungi un altro utente boris no questo è un joycon vedete che carino dalla pubblicità sembrava che era più grande ma non è vero non fa niente adesso si deve mettere questo cavo grande e questo qua cavo alimentazione si e per giocare sulla cv oppure se non volete giocare con la cv potete giocare fuori o da qualche parte o quando stai in treno e adesso adesso non più giocare ecco come come si chiudere pato si come si fa felip felip come si fa ah quanto è bellissimo è un joystick è un joystick bellissimo guardate adesso si collega questo la cv andiamo dalla cv ok adesso ci pensiamo a questo no a questi questi servono per giocare sulla cv se non c'era nintendo sui spot e anche tipo questo come si scollega si scollega no 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 c'è un pulsante indietro questo nero piccolo si premere e lasciare ecco e e questo la stessa no questo è il pulsante più non devi premere pulsante da dietro ecco e adesso ecco 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 e si mette così poco sopra ecco 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 e questo è per il meno ecco ecco è come se stessi giocando come tipo così o anche tipo così stop stop così come nintendo come si scolle ecco ma se non tu ci piu certo ma come si scolle ecco e guardate si fa così non fa niente e allora concludiamo siete contenti certo mi piace questa poi impostiamo impostiamo e dopo vi faremo vedere come è venuto ok salutate a tutti iscrivete su questo canale ci sta con voi e tani oppure come volete chiamare e quindi ciao se volete trovare la nintendo lo trovate in descrizione oppure nintendo non volevo dire oppure andate in mezzo in italia e oppure andate in dei corsi dove ci sono tutte le cose per usare da game ciao 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 ciao